Allora? Allora che? Ci vuole che mi dici come hai fatto a prendere uno a italiano? E te l'ho detto? No, non me l'ha detto, mi ha detto soltanto che era il tema. Si. E che tema era? Era il titolo? Che titolo aveva? Come hai calciato il weekend? E tu che hai scritto? Bene grazie, e lei? Come bene grazie a lei? Eh, educazione. Ma che educazione? Mi hai detto tu che ti vuoi essere educata? Si, ho capito, ma che vuol dire? Dovevi sviluppare tutto il discorso? Eh, ti ho messo il tuo cuore? Ma come ti ho messo il tuo cuore? Per scrivere... Eh, tutto bene grazie a lei. Ma... E come l'hai detto tu? Io. Che ti vuoi essere sempre gentile e chiedere sempre a lei? Si, ho capito, ma che vuol dire? Gli vuoi scrivere tutto bene? Eh, ti devo scrivere? Anche le bugie? Eh? Ma no, le bugie! Nicola, vedi come c'è il cuore? Mi dici anche le bugie? Io non ne ho capito il mio! Isotta, ma... Ciao da Ricola! E da Isotta! Se ti è piaciuto, metti like! Ecco, condividi e iscriviti al canale per essere informato quando pubblicheremo nuove cose. Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!